Anticipazione una vita lunedì 15 luglio 2019 Diego intuisce che suo figlio è vivo e che si trova in convento. Esteban e Silvia intanto sono sempre più complici. Arturo si comporta in maniera fredda nei riguardi della sua fidanzata che stenta a decifrare i suoi comportamenti. Le vicine se ne accorgono e non fanno altro che parlarne. Agustina vuole far avvicinare il suo padrone alla novoa in modo da redimerlo da tutti i suoi peccati. Il colonnello intanto segretamente fa i conti con la sua eminente cecità. Leonor parla in privato con Cristina che prende consapevolezza di aver fatto malissimo a fidarsi di Ursula e a stilare un piano segreto insieme a lei. Grazie. Grazie.